Noi diciamo basta il plopo della contrattazione, basta l'uso del pubblico impiego come un malcomat di troppo facile utilizzo. E' ora di riprenderci la nostra dignità che ha prestato tante, troppe volte. Noi insieme ai piccoli pensionati, insieme agli altri lavoratori dipendenti, insieme ai precari che escono entro nel mondo del lavoro senza futuro, insieme a chi fa imprese e paga il gas, noi siamo la parte sana del Paese e non ce la facciamo più! Noi siamo indignati, noi siamo indignati per le condizioni in cui siamo tutti, ma non indignati! Colleghi! Colleghi! Indignati! Non basta! L'indignazione di milioni di persone lasciate a se stesse non porta a nessun risultato. Allora noi dobbiamo trovare un simbolo, sono dopo cui di unirci e organizzarci. Non oggi questo simbolo lo abbiamo trovato, la bandiera Nella gold hevna, la bandiera, di una bandiera che da pure diventare la bandiera un'altra bandiera per dare a noi, alle future generazioni, ai nostri figli un futuro migliore, in un'Italia migliore, noi abbiamo il dovere di continuare a lottare e a manifestare, perché solo tutti uniti noi vinceremo! Vi abbraccio tutti! Vi abbraccio! Grazie a Benedetto che ha fatto proprio l'intervento da indignato e organizzato nella villa seriamente per lottare per i propri diritti e per il vostro futuro!